Buongiorno a tutti, siamo qui nell'auditorium della Nazione con Moreno Roggi che è il capo morale e esecutivo delle Glorie Viola per presentare un progetto in campo per voi. Moreno, racconta. È un progetto nato con diversi amici, condiviso subito, con il quale si cerca di fare solidarietà radunando dei danari da poi donare con una festa finale alle famiglie che, data questa purtroppo grande crisi, si possono trovare in difficoltà. Questo progetto, al quale abbiamo dato il nome in campo per voi, praticamente raggruppa quattro eventi. Uno delle Glorie Viola con la presentazione di un calendario, ancora un altro con i Lions che presentano e fanno un'asta, ancora un altro di Rotary Chianti che fa la caccia al tesoro e infine con la Coppa della Banca del Chianti dove ci sarà una gara fra la rappresentativa del territorio e le Glorie Viola. Tutto questo a distanza di una quarantina di giorni l'uno dall'altra, in maniera da poter arrivare ai primi di maggio e con questa gara finire i quattro eventi che fanno il corpo centrale di questo progetto. Poi attraverso la Nazione, attraverso di voi, attraverso la Caritas, verranno individuate queste famiglie alle quali donare in maniera equa la somma di denaro che è stata nel frattempo raccolta. Bene, quindi è un progetto a lunga scadenza, ogni mese ci sarà un evento, si comincia l'11 dicembre. Si comincia l'11 dicembre con la presentazione di un calendario, un calendario fatto nel rispetto della storia viola, con ogni mese una vittoria, una formazione delle vittorie, delle coppe vinte dalla Fiorentina, una cosa molto bella fatta da Luca Giannelli e donata alle Glorie Viola, le quali attraverso canali diversi, poi con la vendita, formeranno il primo gruzzolo da mettere insieme agli altri tre per fare in maniera che questo progetto venga eseguito, vada avanti.